Buongiorno da Giuseppe Recca, oggi è giovedì 12 settembre, l'azienda idrica comuni agrigentini pronta ad accogliere le richieste dei comuni volti a gestire in proprio gli interventi di manutenzione delle reti idriche e dei guasti soprattutto. L'intesa di massima raggiunta nei giorni scorsi in occasione di un vertice che si è svolto nella sede dell'ente gestore non interesserà soltanto i comuni di Sciacca agrigento come era inizialmente trapelato ma anche altri enti locali che ritengono di poter assumere la responsabilità di effettuare interventi che al momento AICA non riesce ad effettuare in maniera adeguata. Va in scena da venerdì 13 a domenica 15 settembre il carnevale estivo a Sciacca, programma ridotto rispetto alle previsioni, previste tre giorni di installazione di carta pesta sulla piazza Scandaliato, esibizione di gruppi mascherati, musica in piazza Scandaliato. Si prevedeva il montaggio e la collocazione in piazza dei carri interi primi classificati durante l'ultima edizione, ci saranno invece solo delle installazioni in carta pesta di carri di questa edizione e delle precedenti edizioni. L'evento costerà 15.000 euro, 5.000 dei quali finanziati dalla regione presenteranno la manifestazione Fabio Piazza e Roberta Mandala. I militari della Capitanaria di Porto stanno cercando a Terrasini sul litorale palermitano un giovane di 22 anni di partinico che ieri è finito in mare trascinato da un'onda insieme ad un amico. Quest'ultimo dopo una ventina di minuti è riuscito a guadagnare la riva mentre il suo compagno è sparito tra le onde. La zona dove sono in corso le ricerche è incontrata paternella. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero della Guardia di Finanza. Dopo due anni di servizio in qualità di comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia cederà il comando al suo omologo Agazio Tedesco per assumere un nuovo incarico presso la direzione marittima dell'Emilia Romagna. La cerimonia di insediamento domani 13 settembre alle ore 11. Era una vecchia e capiente cisterna per la raccolta dell'acqua piovana di circa 4 metri per 8 quella che l'ex calciatore Marco Tardelli, imputato a Marsala per abusivismo edilizio, ha trasformato in piscina accanto al dammuso comprato a Pantelleria. Il processo all'ex calciatore, uno degli eroi dei mondiali di Spagna 82, si tiene davanti al giudice monocratico di Marsala Francesca Parrinello ed è scaturito da una autodenuncia dello stesso Tardelli al fine di senare l'abuso. Organizzata dall'Associazione Libera, in programma sabato prossimo a Menfi l'ormai annuale appuntamento con l'Alba della Legalità, manifestazione antimafia coordinata da Antonella Borsellino, presidente della sezione Libera e dell'Associazione Antimafia, Giuseppe Paolo Borsellino di Santa Margherita Belice. Chiudiamo con un appuntamento di spettacolo questa sera a Sciacca alle ore 21 nell'atrio del Comune, in scena la commedia Riuscire a farvi ridere. Lo spettacolo diretto da Salvatore Monte comincerà nella cornice dell'atrio inferiore del Palazzo Municipale. Insieme allo stesso autore si esibiranno Silvana Bono, Michele Cirafisi e Patrizia Di Fede. È tutto per oggi, grazie e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.